cari amici buongiorno a tutti oggi ho la grande soddisfazione e il piacere di ospitare una conversazione a tre la prima sul mio canale youtube graditi ospiti sono oggi la collega giornalista alice lazzari reporter indipendente e daniele locoluso e oltre a essere un valente e valentissimo musicista è anche direttore di spirito di verità tv un canale youtube blog importante con quasi 50.000 iscritti che da almeno tre anni se ho ben capito produce una grande quantità di video molto molto interessanti per i veri cattolici i cattolici legati all'ortodossia allora perché questa conversazione a tre oggi lo lascerei spiegare all'amica alice lazzari che è stata un po la madrina di questo incontro prego alice grazie è un piacere essere tua ospite andrea ed è un piacere avere a fianco a me daniele logoluso allora diciamo che l'esigenza di questo momento nasce dal creare un dialogo un dialogo pacato all'insegna dell'uso corretto del pensiero della logica tra coloro che nell'ambito della fede cattolica coloro che hanno resistito agli input che vengono dati dalla società contemporanea ecco si mantengono fedeli su certe posizioni e soprattutto sul vagliare determinate cariche apicali della chiesa cristiano cattolica proprio attraverso l'uso del logos in questo senso sappiamo che ci sono varie spaccature all'interno dovute a questioni che non sono che sono pur importanti ma diciamo esulano dalla magna questio per cui andrea cionci si è distinto in questa inchiesta di tre anni ed è importante ecco cercare di creare un unione e non spaccarsi come se fossimo insomma delle tifoserie che si apprestano a recarsi allo stadio e quindi io lascerei la parola ai miei colleghi e insomma magari interverrò eventualmente per porre qualche domanda come diciamo moderatore di questo momento se sei d'accordo andrea certo grazie alice allora daniele buongiorno e bene arrivato allora io qualche giorno fa ti ho mandato un report un po riassuntivo dalla mia inchiesta ho saputo che tu qualche cosa avevi già visto analizzato studiato vorrei sapere da te che cosa ne pensi ma in assoluta apertura proprio perché la questione è la vergoglio è il vero papa è un papa canonicamente eletto e allora sarebbe un grosso problema giustificare tutte le sue eresie apostasie oppure c'è qualcosa che non va proprio dal punto di vista formale della sua legittimità ecco io mi sono speso con questa inchiesta di tre anni 500 articoli un libro di 340 pagine credo di essere la persona che più al mondo ha studiato anche in termini diciamo di tempo la questione delle dimissioni volevo sapere tu che idea ti sei fatto se hai visto i documentari che che materiale analizzato e se hai dei dubbi se hai delle contestazioni delle obiezioni da fare ciao innanzitutto grazie per l'invito spero si senta il microfono prima ha avuto un piccolo problema quindi conferma ok perfetto ottimo allora innanzitutto grazie dell'invito ieri poi abbiamo avuto questi giorni insomma una piacevole chiacchierata come a me piace fare io non non escludo a priori nessun tipo di tesi non sono di quelli che si schiera in maniera impulsiva rispetto alcune tematiche anzi sto sempre molto attento e prudente rispetto ai miei pronunciamenti appunto essendo un personaggio pubblico che da tre anni a questa parte cerca di battare la buona combattere la buona battaglia cerco sempre di essere misurato quindi sto attento attentissimo anche la singola parola perché purtroppo ci troviamo di fronte a una platea di persone che sono estremamente confuse come lo siamo anche noi lo siamo stati anche noi di fronte a ciò che il mondo propone possiamo prima di appunto darti una mia opinione e farti fare qualche obiezione nel caso e fare qualche domanda vorrei soffermarmi innanzitutto su alcuni punti che ci accomunano ci siamo resi conto che almeno da tre anni a questa parte in maniera evidente i poteri mondialisti hanno preso il controllo in maniera definitiva questo lo vediamo con la pandemonia così come la chiamo io la pandemonia che non è soltanto legata alla discorso chiamiamolo sanitario di un'imposizione di massa di un siero genico sperimentale ma anche dal punto di vista dei cuori allora si è vagliato in maniera abbastanza netta l'orientamento di ciascuna persona l'orientamento dal punto di vista spirituale innanzitutto ho sentito più volte ripetere la parola questa una battaglia spirituale soprattutto dal punto di vista della contro informazione contro informazione che secondo me anche abusato di questo termine perché poi il termine battaglia spirituale talmente generico che non si sa bene di che spirito stiamo parlando ecco quindi bisogna sempre stare molto attenti a parlare di spirito poi gli orientamenti spirituali sono tanti non sempre sono spiriti buoni però c'è stato ovviamente uno spartiacque molto importante tra chi ha capito che qualcosa non va nel mondo e che in realtà ha fatto finta di nulla si è bevuto qualunque cosa questo è avvenuto proprio perché noi siamo in un'epoca del della delegazione nel senso noi deleghiamo deleghiamo a tutti a chiunque a tutte le istituzioni le nostre scelte il nostro paradigma sociale possiamo anche dire così ogni cosa dal punto di vista sia delle transazioni finanziarie piuttosto che anche alla semplice possiamo dire così scelta dove andare a fare la spesa è tutto manipolato perché ormai siamo direttamente controllati siamo arrivati a questo punto proprio perché c'è un problema etico innanzitutto e poi trascendentale l'uomo si è allontanato ormai lo possiamo evidenziare nella crisi post concilio dal dal sacro ancor prima posso dire da quando c'è stata la teoria di darwin dell'evoluzionismo che ha separato in maniera abbastanza evidente l'idea di scienza l'idea di religione successivamente però noi abbiamo visto veramente lo spartiacque quello importante nel concilio vaticano secondo giro vaticano secondo che ha la stessa alla stessa detta di paolo sesto anziché essere una una primavera è diventato un inverno freddissimo quelli che erano dentro anziché vedersi invadere da quelli da fuori sono scappati anche loro questo diciamo è la prima cosa evidente lo vediamo anche da monsignor lefebvre in poi quindi tutto ciò che è successo per la difesa della messa in vetus sordo anche lì all'interno della messa in vetus sordo poi purtroppo nella tradizione cattolica ci sono delle delle divisioni è chiaro che siamo arrivati a questo punto proprio perché abbiamo lasciato spazio ai massoni massoni che già erano stati denunciati da papi anche un po più un po più antichi possiamo dire così ma neanche tanto tanto lontani come pio decimo san pio decimo che ovviamente condannava il modernismo la massoneria stessa e poi la massoneria comunque il suo obiettivo è sempre stata quella di abbattere il cristianesimo da dentro se non ricordo male se non ricordo male potrei sbagliarmi nel 1917 proprio in concomitanza con le apparizioni di fatima se non erro ci fu questa manifestazione in vaticano da parte di un gruppo di massoni che sventolava uno standardo con satana che schiacciava la testa san michele dicendo prima o poi entreremo qui ecco questa la data probabilmente non è quella corretta mi ricordo così un po memoria dovrei andare ad informarmi meglio magari tu da storico ricordi qualcosa di più preciso però che fosse campo dei fiori più che il vaticano comunque questa questa cosa me la ricordo anche io sì sicuramente ecco allora diciamo che il piano è sempre stato quello lo vediamo anche io ho fatto un video leggendo l'informazione 95 denunciata dal professor cesare ghinelli ex primario di pediatria se non ricordo male a mantova o padova forse una delle due che era stato nel grande oriente d'italia dove elencava e sviscerava una serie di elementi una serie di che altro punti programmatici da quelli già acquisiti a quelli ancora da acquisire dove si spiegava in maniera esplicita che saremo arrivati alla tutto quello che stiamo già vedendo e all'eliminazione poi del sacrificio quotidiano perché poi noi dobbiamo vedere in che ottica sta avvenendo tutto questo cioè ovvero quello che daniele cita nella insomma l'antico testamento è proprio la sospensione del sacrificio quotidiano poi ripresa da gesù nel vangelo di matteo 24 e che è proprio la presenza dell'anticristo ok quindi noi siamo in quella direzione poi dell'anticristo ne ha parlato anche la madonna la salette ai due vigenti no e poi abbiamo tantissimi altri e san paolo stesso lo cita nelle sue lettere seconda lettera ai tessalonicesi il catechismo della chiesa cattolica i punti 675 76 77 cita esattamente che diciamo che è un film diciamo daniele che è un film già visto per per tutto quello che è stato annunciato e predetto no insomma mi pare che i riscontri con la realtà fattuale ci siano e come non so come la pensi al di là di quello che è stato già detto assolutamente sì perché come vedi io noi stiamo facendo un lavoro seppur differente ma io penso che sia anche complementare io vabbè parlo innanzitutto per me stesso è quindi io in questo momento sto rappresentando me stesso daniele logoluso non sto portando istanze di altri o anche di amici o di persone con le quali collaboro questo sia chiaro perché sapendo che appunto faccio parte di del comitato libero in verità devo dire apertamente che le posizioni sono le più variegate come succede nel mondo cattolico quindi non non sto rappresentando nessuno se non me stesso e il mio non è un voler abbracciare questa questa grande inchiesta che meritoria della quale ti faccio i complimenti e ti ringrazio appunto per l'opera giornalistica che non è da tutti e posso dire che però il per me la materia in questo caso è delicata e poi entrerò nel merito anche di questo per quanto riguarda il film già visto sì effettivamente io da già da tre anni ne sto parlando dicevo che il lavoro che stiamo facendo è complementare perché io mi sono spinto su altri sentieri che altri rivoli che finiscono nello stesso fiume ovvero ho cominciato a testimoniare secondo una mia visione cattolica studi fatti letture mie personali discernimento preghiera perché poi non dimentichiamo che dalla preghiera tingiamo poi tutte le illuminazioni anche dello spirito santo si è fatta chiaramente con il cuore e da lì sono arrivato al punto che siamo ovviamente in un'epoca in un momento dove anziché abbondare la grazia che la comunque abbonda nel sottobosco però sta proliferando il male non la malvagità perché lo vediamo dalla presenza io faccio sempre questo esempio perché è stato quello che mi ha acceso la lampadina che è quello delle vasche di lurde no appena chiuse appena è scoppiata la pandemonia via chiudere che cosa punti fonti fonti di grazia fonti di miracoli di benessere spirituale innanzitutto poi fisico questa cosa è la cartina di tornasole per farci capire che gesù aveva visto bene ovviamente però quando diceva quando il figlio dell'uomo tornerà troverà la fede sulla terra ora io ho poi ho continuato sto continuando a fare questo tipo di chiamiamola di testimonianza di evangelizzazione laica rispetto anche alle alle profezie e quello che la madonna poi ha detto anche quelle comprovate anche quelle credibili non ancora confermati dalla chiesa e parlano grosso modo tutti di un grande tempo di tribolazione questa tribolazione che ancora non si è manifestata adesso siamo nel periodo di grazia e io ringrazio appunto questo preciso istante che ringrazio anche bergoglio ti dico la verità perché ha messo in condizioni cattolici di farsi due domande cattolici veri quelli che tengono la tradizione al magistero alla sana dottrina e al vangelo soprattutto perché poi da lì nasce tutto e lui è stato profetico e io ringrazio il signore per averci mandato questo questo personaggio perché per quanto uno possa anche riconoscerlo papa eretico comunque la mia visione poi ancora momento ho sospeso il giudizio perché sto studiando però è una persona che sta cambiando la chiesa e lo sta cambiando profondamente abbiamo detto che il cambiamento è partito dal 60 in poi 1960 in poi siamo arrivati a questo punto dove ovviamente con le briglie sciolte eh gli è permesso ovviamente di fare eh anche di dire fatevi questo perché è un atto d'amore certo eh ma ehm permettimi di citare un uno stralcio dal famoso discorso di Monsignor Gheswain del 2016 quando disse come nei primi secoli della chiesa c'è un solo papa legittimo ma abbiamo due successori di San Pietro Viventi allora se la logica mi assiste se c'è un solo papa legittimo ma ci sono due successori di San Pietro Viventi uno sarà legittimo e l'altro sarà inevitabilmente illegittimo ma poi prosegue Monsignor Gheswain dicendo si è creato de facto una sorta di ministero allargato con un membro attivo e un membro contemplativo allora geometricamente a casa mia questo discorso eh mi conduce a questo c'è un solo papa legittimo che è il membro contemplativo del ministero allargato che è l'emerito che è l'impedito e c'è un membro illegittimo che è c'è un successore di San Pietro illegittimo che è il membro attivo che è Bergoglio che è l'antipapa ma vorrei concentrarmi su questa idea del ministero allargato perché tu hai hai detto una cosa molto interessante cioè sono grato a Bergoglio eh credo che sia stato eh voluto dal cielo diciamo che lui si manifestasse per svolgere un suo ruolo ecco non credi che papa Benedetto possa con questa idea del ministero allargato possa aver fatto riferimento proprio a una visione teologica ed escatologica in cui è un po' come Giuda e Gesù Cristo no? Ci voleva Giuda che tradisse Gesù eh per dare compimento al suo sacrificio ci è voluto un antipapa anticristico e anticattolico per tradire il vero vicario di Cristo e eh e concludere diciamo una fase non so se ti torna da questo punto sì allora ehm sì guarda ti posso dire che eh quando ho parlato del ministero allargato che mi ricordo anch'io questa affermazione di ehm mi viene venuto in mente in maniera così spiritosa quando Majin Buu ad un certo punto eh butta fuori il suo alter ego cattivo no? Quindi ci sono questo sdoppiamento no? Del personaggio di Dragon Ball non so se lo ricordi ehm però a parte a parte gli scherzi stavo parlando gli stavo pensando anche al fatto che come tu ben sai abbiamo avuto altri antipapi abbiamo avuto papi eretici abbiamo avuto anche momenti della storia dove c'erano tre papi quindi eh dal punto di vista mh diciamo di questa situazione non è eh una novità cioè quindi è tutto possibile e può ricapitare nella storia perché no anzi soprattutto nella fase degli ultimi tempi cioè gli ultimi tempi si si parla nelle profezie di questa in questo momento dove la fede di molti crollerà eh dove ci sarà una grande un grande rifiuto un rinnegamento della fede anche all'interno del Vaticano quindi la grande apostasia e questo questa affermazione di certo getta ha gettato tanti interrogativi nel cuore delle persone eh il ministero allargato ehm è strano cioè nel senso o uno cioè chi deve guidare Pietro non è Pietro è eh non so è Aldo no? O Giovanni o non so è Pietro e Pietro deve essere no? Quindi una unica persona l'altro effettivamente a me è la cosa che mi ha sempre lasciato un po' così da pensare ripeto io sono ancora in fase in fase di eh analisi quindi non do ancora dei miei giudizi personali chi mi segue lo sa benissimo quindi eh non lo faccio per viltà non lo faccio perché voglio nascondere la testa sotto la sabbia ma perché voglio voglio essere molto prudente dal mio canto e finché non ho la certezza matematica e poi entreremo anche rispetto a altre questioni più avanti eh non posso esprimermi non mi sento di esprimermi proprio per responsabilità mia personale eh però diciamo che il fatto che venga chiamato da veniva chiamato da Monsignor Genshman già sua santità getta comunque un altro problema parlo di Benedetto XVI chiaramente eh dire ok ma se la santità cioè il Papa sua santità è sempre stato uno come possono essere su due i papi no? Ai quali a chi ci si rivolge? È vero che uno è stato si è messo da parte no? A chi dobbiamo dare conto e l'ufficialità eh seppur con tanti problemi con tanti eh errori come noi sappiamo eh è quella per il mondo che Francesco è il Papa legittimo ok nonostante chiaramente delle incongruenze eh la cosa che io vorrei vorrei sinceramente visto che la tua inchiesta ripeto è meritoria molto dettagliata eh non è ovviamente esente da errori anche quella quindi ovviamente nessuno di noi si impone come la verità assoluta sappiamo che siamo fallibili quindi come io posso sbagliare puoi sbagliare tu puoi sbagliare qualcun altro certo certo però abbiamo sicuramente eh il compito noi cattolici di farci sentire e chiedere un'inchiesta parlamentare no? Però un'inchiesta papale possiamo dire così eh che vada a nocciolo perché non si può disattendere ehm una una richiesta dei fedeli no? Si diceva una volta vox popoli vox dei quindi se il il popolo chiede eh che che venga fatta chiarezza perché questa cosa getta scompiglio ha gettato scompiglio secondo me per onore per giustizia per verità è il caso magari di aprire un tavolo io capisco che poi dalle stanze vaticane eh questa richiesta potrebbe generare scompiglio perché so per vie eh traverse che all'interno del vaticano non se la passano molto bene insomma non c'è un clima disteso ecco esatto eh permettimi di fare una domanda ad Alice che eh la nostra ospite graditissima eh Alice tu che sei una sostenitrice del logos allora in merito al fatto che la chiesa non dia spiegazioni sul fatto eh se Bergoglio sia o non sia il vero papa non non ti non ti puzza un po' cioè eh per esempio Don Minutella l'hanno scomunicato a sangue due volte ridotto allo stato laicale ma non perché eh si fosse reso colpevole di chissà quali crimini ma semplicemente perché non riconosceva valida la declaratio di papa benedetto allora se le le norme canoniche sono state perfettamente rispettate se papa Francesco governa in forza del munus pedrino come ha scritto nella sua recente legge fondamentale che cosa ci vuole a spiegare la procedura delle normative che che cosa ne pensi da questo punto di vista allora io sono anche un sostenitore delle buone maniere e questo perché a domanda se la domanda è ben strutturata e eh si sostiene va data una risposta e soprattutto su tematiche spinose come quella che stiamo trattando qui oggi quindi innanzitutto ehm già ai tempi dei dubbi ha sollevato dei quattro cardinali il fatto che non sia stata data risposta lo trovo prima che il logico veramente vergognoso da un punto di vista del rispetto di coloro che hanno sollevato determinate questioni la cosa in questi in questi anni non ha fatto che esacerbarsi e rilevo che è un modus operandi comunque che eh esula anche dal puro campo eh religioso si spinge anche a un campo governativo laddove eh ricordo ad esempio che quando il governo fu sollecitato a inizio 2020 sui potenziali effetti collaterali di determinate norme non si degnò nemmeno di dare risposta e tuttora questo atteggiamento viene portato avanti in vari ambiti ehm e in una maniera eh che sta diventando davvero un modus operandi io questo lo trovo veramente preoccupante da un punto di vista sociale innanzitutto perché ehm mette due livelli due gruppi di persone di due livelli diversi in contrapposizione come se ci fossero persone più degne di ehm dispensare domande risposte eh e avere dignità di essere ascoltati un gruppo di persone meno degne purtroppo i presupposti su cui questo si basa sono puramente eh di opinione non sono eh di meritocrazia non sono di livello di istruzione qualora fosse anche opportuno creare una serie A e una serie B su queste basi invece sono addirittura a livello di opinione questo lo trovo gravissimo perché è il principio di una destrutturazione sociale passando poi nel merito della tua domanda e parlando di logos e parlando di ehm il fatto di non argomentare beh eh io trovo chiaramente che eh dietro a queste non risposte possa celarsi eh il fatto che non ci sia una risposta eh parimenti strutturata eh commisurata alla domanda e dunque eh anche sì solo questo aspetto eh potrebbe eh dovrebbe iniziare a eh suscitare in molti di più eh di quanto non sia un campanello d'allarme. Sì infatti grazie Alice mi piace molto anche il tuo primo intervento sulla buona educazione qui ormai sono saltate le norme proprio della più basilare civiltà eh Daniele sa che sul mio canale ho pubblicato quasi una trentina di appelli cordiali e pacifici ad altrettanti osservatori commentatori vaticanisti cattoconservatori e nessuno si è degnato di rispondere ehm allora eh secondo me chi non risponde a obiezione pacifica garbata neanche fatta in modo aggressivo o violento ha ha torto a prescindere perché appunto dimostra di non di non avere argomentazioni ma questo secondo me sta celando una strategia molto pericolosa una strategia che è quella di fare il vuoto intorno all'inchiesta di Cionci di fare il vuoto intorno a Don Minutella per eh perseguire una strategia del cosiddetto conclave inciucio cioè eh andare tutti insieme quei falsi cardinali di nomina bergogliana a un conclave che per forza di cose non è che lo dice Cionci è la legge canonica e leggerà comunque un antipapa comunque privo eh della grazia di stato e quando anche per un colpo di fortuna così venisse eletto un cardinale della tradizione cosa estremamente improbabile perché i rapporti di forza sono venti contro cento ma quando anche venisse eletto per esempio il cardinale Burke eh sarebbe comunque un antipapa comunque privo della grazia di stato e dal punto di vista teologico eh appunto non non avrebbe il sigillo di garanzia dello Spirito Santo ma eh qui adesso vorrei eh sollecitare un poco l'amico Daniele a entrare nel vivo del discorso perché sono perfettamente d'accordo sul fatto che eh una una necessità collettiva diffusa fra tutti quelli che hanno idee anche diverse ma Bergoglio è Papa, Benedetto è rimasto Papa involontariamente, Bergoglio non è Papa, insomma l'unica cosa sulla quale siamo d'accordo è che non siamo d'accordo. Allora però se si fosse veramente eh intenzionati a difendere l'azione e amanti della uno dice sportivamente ragazzi sapete che c'è andiamo dal re Salomone cioè il collegio cardinalizio in modo che si pronunci perché è intollerabile che da dieci anni si stia ancora a discutere sulla sulla sulle dimissioni di Papa Benedetto. Ma eh adesso vorrei sollecitare un attimo l'amico Daniele per chiedergli che cosa ha visto della mia inchiesta, cosa lo lascia perplesso, quali obiezioni mi farebbe in un'ottica costruttiva da tra virgolette avvocato del diavolo. Allora io ehm ho visto un po' eh diciamo che già dall'inizio ho seguito qualche articolo come dicevo su eh Libero poi ehm ho avuto modo di ascoltare le interviste eh diciamo che la la tematica la conosco abbastanza bene non nello specifico in tutto 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 dico la verità perché purtroppo sono molto impegnato anche io nelle mie nelle mie cose però ehm in realtà io eh vorrei sollevare un po' un dubbio ma più che un dubbio una riflessione una riflessione che la riflessione sta nel eh correggimi se sbaglio si parla di anfibologia giusto? Quindi eh termini ehm non eh apertamente cioè vengono dette delle frasi che nascondono un significato diverso ok? Eh questo questo aspetto è quello che di più è controverso nel senso mh che ha sicuramente corrispondenza con quello che viene che che hai detto no? Che hai trovato all'interno dell'inchiesta che hai testimoniato e scritto eh però allo stesso tempo da fuori da fuori la gente non lo ha compreso no? È vero che c'è il discorso della sede impedita che lui non può parlare o però la cosa che ha sempre lasciato perplesso cioè che lascia ancora questo neo questa questo freno penso in molti e anche in me posso dirti in maniera sincera e che benedetto non si sia speso fino in fondo ehm per eh arrivare al martirio no? Quindi lui si è ritirato cercando di utilizzare una strategia a tua detta eh per ehm che poi adesso lascerei a te appunto così la spieghi molto bene eh per riuscire a far crollare poi l'antipapa no? Per far cadere i piani massonici però di di contro abbiamo lasciato tutti i cattolici la maggior parte dei cattolici completamente eh privi di difese perché alla fine noi se andiamo a vedere Bergoglio sta facendo esattamente quello che deve fare ok? Eletto o non eletto? Vero o non vero? Cioè il punto è che lui è lì che sta andando avanti e di certo eh per quanto noi ci possiamo sforzare non sarà non sarà sufficiente l'azione umana per far cadere questo piano anche perché eh noi possiamo fare resistenza informazione però quello che i dubbi che ha lasciato no? I vuoti che ha lasciato gli irrisolti che ha lasciato benedetto sedicesimo sono solo forse per alcuni e allora eh se cioè lui ha rischiato talmente tanto secondo il tuo modo di di intendere la questione ha rischiato talmente tanto eh da sperare nella grazia divina ovviamente che qualcuno se ne accorgesse per portare avanti questa battaglia però così facendo veramente ha fatto tipo all in come si dice nel gioco pocheristico no? Se lui ha detto adesso mi gioco tutto ah mi gioco tutto tutto dentro e me la rischio sperando che c'è un cardinale un bescovi un sacerdote che ad un certo punto solleva la questione no? Senza sapere senza sapere ovviamente senza avere una certezza a meno che non abbia avuto una rivelazione privata senza avere la certezza matematica che questa cosa sarebbe successa dopo una settimana dopo un anno dopo dieci anni dopo cinquant'anni no? O nel momento che serviva. Ti blocco Daniele perché mi hai già aperto una quantità di fronti ai quali rispondere nella tua nella tua domanda che è omnicomprensiva quasi allora hai fatto questo esempio tratto dal gioco del poker che è molto stimolante e ti rilancio con un mio articolo pubblicato recentemente grazie al contributo dell'ingegnere Andrea Latorre che è uno scacchista appassionato che mi ha decodificato la strategia di Papa Benedetto attraverso la strategia degli scacchi e ha detto praticamente che Papa Ratzinger ha messo Bergoglio in Zugzwang cioè una situazione in cui qualsiasi cosa faccia Bergoglio è spacciato però questa coraggiosa operazione la si fa attraverso il sacrificio si chiama proprio così di un pezzo importantissimo cioè la regina cioè in questo caso il ministero in questo caso il potere pratico e questo ci fa capire ci dà anche una spiegazione alla tua obiezione dice ma Papa Benedetto non ha cercato il martirio ecco se lui si fosse fatto uccidere tu sai che era uscito fuori il cosiddetto morto complotto un complotto in cui si parlava di farlo fuori ma anche per dire se fosse morto di morte naturale al comando e oggi avremmo Bergoglio legittimo Papa mi spiego invece per capire la strategia di Papa Benedetto bisogna fare riferimento a Ticonio quel teologo donatista romano del quarto secolo che lui amava moltissimo e Ticonio che scrisse un commento all'Apocalisse diceva che nella chiesa di Cristo è nascosta la chiesa del diavolo non una chiesa un po' naif un po' modernista ma proprio la chiesa del diavolo portata avanti da vescovi traditori e qui mi pare che ci sia tutto un florileggio di vescovi traditori e quando è che verrà la luce questa chiesa del diavolo con la grande discesio non uno scisma tradizionale in cui la parte marcia viene buttata fuori ma un ritiro temporaneo della chiesa di Cristo che lascia spazio alla chiesa del diavolo di manifestarsi e qui noi troviamo anche la logica spiegazione delle anfibologie del codice Ratzinger perché perché il piano di Papa Benedetto era quello di dire la verità in un modo ultra preciso ultra come posso dire corretto dal punto di vista del latino e del diritto canonico lasciare in modo lasciar fare che i suoi nemici si strozzassero con questa polpetta della rinuncia al ministerium e lasciarli governare concedere loro un pomeriggio di libertà e questo che cosa ha prodotto ha prodotto due dinamiche due direzioni mentre da un lato la chiesa del diavolo si manifestava con eresia apostasie inversioni dalla sana dottrina eccetera eccetera dall'altra parte degli amanti della verità o dei veri cattolici cominciano a farsi quadrare i conti su dei piccoli sottili messaggi che lui manda perché questi messaggi sono sottili sono sottili per tre motivi primo perché era fattualmente in sede impedita e quindi diciamo non è che poteva dire e fare quello che voleva come nessun prigioniere nessun prigioniero può fare in secondi in secundis per non far decadere lo status di sede impedita perché è chiaro che se uno è sequestrato e può telefonare liberamente i carabinieri decade il suo stato di sequestro no perché dimostra di essere libero terzo soprattutto per questo motivo teologico e scatologico di cui ti accennavo cioè fare in modo che ci fosse una progressione lenta graduale di acquisizione di una però verità oggettiva cioè il fatto che l'unico caso in cui il papa perde il ministerium e e conserva il munus è quello della sede impedita l'acquisizione che è avvenuta dopo la sua morte dell'ora vigesima che fa entrare in vigore questa altrimenti impossibile rinuncia al ministerium dalle 13 del primo marzo immediatamente dopo la convocazione del conclave illegittimo ci offre la quadratura la quadratura del certo quindi e consentimi un'ultima un'ultima considerazione cioè papa benedetto questa cosa l'ha urlata non è che ha parlato per anfibologie sottili indecifrabili cioè lui diceva il papa è uno solo e poi impartiva pubblicamente la sua benedizione apostolica tanto che il cardinale brandmuller si stupiva dicendo ah ma come tu non sei più papa impartisci la tua benedizione apostolica massimo franco diceva beh il papa è uno solo quindi certamente è francesco oppure scrive nessun papa si è dimesso per mille anni io sono il primo quando l'ultimo abdicatario di 600 anni prima allora a me questi messaggi mi sembrano di una pesantezza di una evidenza clamorosa infatti io stesso mi vergogno un po di di esserci arrivato solo nel 2020 di aver ignorato la questione fino al 2020 e di essermi fatto che mi si sia accesa una lampadina solo dopo sette anni che prova benedetto e non siete impedita spero di aver risposto alle tue domande si guarda avrei anche mentre parlavi hai detto se fosse morto prima si fosse no avesse avuto avesse fatto una rinuncia valida avremmo avuto un vero bergoglio c'è un vero papa no giusto quindi anziché falso comunque illegittimo bene però il la cosa è che cosa sarebbe cambiato perché un papa legittimo comunque sarebbe stato canonicamente eletto e cosa sarebbe cambiato a livello pratico perché lui comunque non avrebbe avrebbe comunque fatto le stesse cose che sta facendo adesso quindi in realtà cosa sarebbe mai infestato a di me sì sì no grazie grazie daniele perché mi hai fatto una domanda chiave sostanziale vedete vorrei dire ai nostri ascoltatori vedete com'è bello parlare in modo pacifico discreto confrontarsi perché poi escono fuori tante cose per esempio daniele con questa domanda mi conduce a parlare di una cosa fondamentale cioè il fatto la differenza che passa tra il fatto che bergoglio sia stato eletto canonicamente oppure no è diciamo la stessa differenza che passa fra la salvezza della chiesa la sua purificazione finale e invece la sua distruzione e il destino dell'esilio di uscire dalla sinagoga di rifondare la chiesa fuori dal passato perché perché essendo non eletto canonicamente papa la universi dominici gregis la costituzione apostolica che fu scritta da giovanni paolo secondo e chiaramente dal cardinale razzi nel 96 offre ai cardinali il diritto dovere di intervenire all'articolo 3 dove si dice che i cardinali hanno il dovere di tutelare i diritti della sede apostolica e come come è semplicemente spiega l'articolo 76 77 dice la la vacanza della sede apostolica deve essere la norma del canone 332.2 quello intorno al cui stiamo discutendo esattamente a dieci anni cioè quello che impone la rinuncia al monus petrino e se questo non è se non fossero state osservate le condizioni qui stabilite dice la universi l'elezione è perciò stesso nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito ed essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta quindi il fatto che bergoglio non sia canonicamente il papa conduce all'annullamento di tutto quello che lui ha fatto alla sua cacciata all'annullamento e all'elisione di tutto quello che ha fatto dalle canonizzazioni alle nomine ai cambiamenti liturgici ai motu proprio ecco pensate nel motu proprio presunto tale tradizioni scustodes che fa fuori la messa in latino bruciato in un istante non solo ma la universi dominici gregis presuppone anche il fatto che i cardinali cioè che possano rifiutarsi di partecipare al conclave quindi nel momento in cui tre cardinali numero minimo per convocare conclave trovano il coraggio di dire signori il vero papa è morto era benedetto sedicesimo abbiamo capito adesso garanzia da impedita francesco non è il vero papa è un usurpatore bisogna leggere il nuovo pontefici è chiaro che succede un macello succede un putiferio però ormai la questione è stata indagata in lungo e largo e quindi bergoglio sparirà nella notte se ne andrà spontaneamente spontaneamente e si creerà un nuovo conclave purificato perché immagino che i cardinali marx e quegli altri tag le si rifiuteranno di partecipare e sarà eletto un vero papa veramente cattolico assistito dallo spirito santo e trionferà la chiesa cattolica tornando alla ortodossia spacciando anche i frutti marci del concilio che i tradizionalisti continuamente additano come responsabili di questa situazione certo è ovvio che bergoglio sia il frutto del concilio perché questa aggressione satanista alla chiesa cattolica è partita esattamente durante il concilio è ovvio il problemino è che bergoglio non ha le carte in regola e quindi deve essere buttato fuori deve essere annullato tutto quello che lui ha fatto capisci l'importanza di quello che io sto sto portando avanti è la differenza che passa tra lasciare la chiesa in mano agli usurpatori satanisti massoni e invece buttare fuori tutti e purificare la chiesa e tornare al cattolicesimo mi sembra che valga la pena di avvicinarsi a questa faccenda che ne pensi ma allora sì sicuramente l'analisi è un'analisi interessante importante e soprattutto anche da portare avanti e approfondire c'è una cosa che vorrei conto è vero che è detto che se fosse stato eletto bergoglio in maniera canonica quindi senza senza problemi difetti la chiesa sarebbe scomparsa sarebbe stata distrutta no però io sono invece sono dell'opinione che in realtà la chiesa stessa anche lo stesso vaticano per quanto marcio possa essere non cadrà mai nel senso non ci sarà mai una chiusura visibile della chiesa seppur sembrerà morta perché poi la morte come dice appunto il catechismo della chiesa cattolica sarà una morte apparente la morte che in realtà non c'è perché come faccio l'esempio per esempio del dell'albero che tu tagli alla base la prima cosa che succede dopo aver tagliato un albero alla base sono i polloni che vengono fuori dalla terra quindi abbiamo questi bellissimi germogli i figli che nascono nuovi vigorosi ecco siccome la chiesa in questo momento sta vivendo questo amputazione alla base in realtà la chiesa sta ricrescendo e quando arriverà il punto che ormai ci siamo collasserà franerà perché una casa costruita sulla sulla sabbia destinata a crollare allora a quel punto verranno fuori purtroppo magari in ritardo però al momento che dio dispone quei cardinali quei vescovi quei sacerdoti che hanno mantenuto la barra dritta nonostante il fatto che siano rimasti nella chiesa senza formarsi una loro chiesa perché il problema poi qual è che la gente si forma la piccola chiesa domestica se ne va si allontana e si fa e fanno uno scisma ok il punto è noi non possiamo allontanare accusare persone che come abbiamo già avuto modo di parlare in privatamente e come io dico quelle persone che non hanno nozionistiche non hanno non hanno competenze non hanno l'intelligenza la cultura per poter affrontare determinate tematiche per loro magari l'avvicinamento soltanto ad una chiesucola piccolo parroco santo nella piccola campagna dispersa gli dona quella quella grazia della quale hanno bisogno io vorrei mettere in guardia tutte le persone che prendono come se fosse una tifoseria da calcio questa questa inchiesta di di andrea che è molto interessante però bisogna sempre meditarla nel cuore e cercare di fare tanto discernimento ma anche sugli atteggiamenti da mantenere perché quando poi io mi ritrovo e l'ho già detto ma lo ripeto pubblicamente delle persone che mi insultano perché mi io non mi espongo visivamente rispetto alle queste tematiche e che non vado condommi nutella e che non faccio questo io per esempio sono qua con andrea ci sto dialogando perché io penso che un dialogo oltre tra persone pensanti cattoliche e che abbiano a cuore il bene del prossimo sia alla base quindi è una cosa che io ammiro apprezzo sempre in qualunque situazione certo con chi mi insulta con chi vuole impormi un suo pensiero magari difficilmente riuscirò a parlare però io sono sono aperto a chiaramente tante 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 idee a tante possiamo dire inchieste teorie più o meno credibili perché poi ce ne sono tantissime altre c'è gente addirittura sono in sede vacantisti che loro già dal concilio vaticano secondo non riconoscono più nessun papa quindi siamo anche quelli belli lì poi ci sono quelli che se vai al vetusordo però non sei celebri con con vergoglio allora sei scomunicato sei eretico ecco c'è tanta confusione quindi direi innanzitutto pensiamo da cattolici cominciamo a ritornare alla conversione personale all'amore per il prossimo prima cosa e a fare veramente di quello che ha fatto cristo perché cristo mangiava quei peccatori cristo in mezzo a noi dobbiamo assumere questa se vogliamo veramente la verità anche da questa questa inchiesta di andrea abbiamo bisogno necessariamente di fare quello che cristo ci comanda ovvero di amare il prossimo come noi stessi essere miti e umili di cuore nella verità cercando la verità cercando di promuoverla ma dobbiamo stare molto attenti perché io sono ormai le spalle grosse non ho problemi non ricevute di ogni ho avuto attacchi da satanisti più e più volte quindi il gli insulti purtroppo di pseudo cattolici mi toccano fino a un certo punto però dobbiamo veramente lo dico a tutti i tuoi ascoltatori anche i miei cerchiamo di di unirci nell'amore per la verità ma senza è come dire a ma tu ti sei sierato ti sei fatto inoculare allora non non sei degno non sei degno della mia parola no attenzione se la persona pensa diversamente ha fatto una scelta diversa sarò io stesso che magari cercherò con gli ultimi modi con l'amore con la colapola la chiarezza perché poi uno deve essere chiaro e limpido non deve avere cose strane di deve essere semplice con la semplicità avvicinarti alla mia idea e se la condividi la braccia bene altrimenti rimarremo magari su posizioni simili di più vicine di prima ma comunque potremmo combattere la stessa battaglia ecco questo è quello che mi premeva dire permettimi di fare una distinzione fra due argomenti allora per quanto riguarda per esempio l'ascoltante unione con questo con quello ad dato che sul mio gruppo telegram si possa affrontare la questione dell'unacume perché è una questione terribilmente divisiva già siamo stradivisi poi se ci dividiamo anche sull'unacume si raggiungono percentuali infinitesimali siccome non c'è stato un pronunciamento definitivo della chiesa sul fatto che vergoglio sia non sia il vero papa è chiaro che questo è un aspetto che riguarda le coscienze individuali quindi io credo che sia rispettabilissima l'idea di non partecipare ai riti in comunione con l'antipapa così come fecero per esempio nel 1790 i cattolici francesi che si rifiutarono di accogliere i sacramenti dai sacerdoti che avevano giurato fedeltà alla rivoluzione ma non si possono mettere in croce le persone che non hanno le idee chiare non hanno capito bene non hanno la forza spirituale per rinunciare ai sacramenti e che comunque devono maturare in modo individuale una scelta che è libera perché lo stesso criterio di papa benedetto è stato quello di lasciare alle pecorelle separarsi autonomamente fiutando il vero pastore quindi da questo punto di vista io sono perfettamente d'accordo con te è una scelta personale però permettimi di fare una considerazione sul fine del dibattito perché dobbiamo stare un attimo in guardia dal rischio del relativismo cioè la discussione deve essere finalizzata a portare alla luce una verità ora la magna questi è bergoglio è il legittimo papa oppure no allora io credo che ci si debba confrontare con cordiale amicizia e amore per la verità ottingendo tutte le migliori virtù cristiane e la fraternità l'amore per la verità il logos la luce della ragione eccetera però per depositare e alla fine un pronunciamento che sia che sia chiaro cioè alla fine uno deve decidere a per te bergoglio il vero papa o no perché se è vero papa allora poi va anche difeso no bisogna anche difenderlo da cionci che sta screditando il legittimo vicario di cristo e bisogna poi far quadrare i conti su come possa il papa assistito dallo spirito santo non solo nel magistero straordinario ma anche in quell'ordinario possa essere a favore delle nozze delle nozze gay intronizzare idoli pagani e cioè c'è tutto poi un lavoro da fare per difendere il legittimo vicario di cristo ovvero nella storia della chiesa ci sono stati 40 antipati e i cattolici si sono massacrati fra di loro giustamente trovo per rimettere sul trono il papa legittimo perché la legittimità del papa non è qualcosa di accessorio è qualcosa che sancisce il fatto che dio stesso e ponga il suo sigillo sulla sulla legittimità della chiesa e attenzione anche permettini daniele a confidare troppo nel nel comandamento insomma nell'affermazione gesù infera non prevale punt non perché gesù non avesse ragione ma perché non è detto che si riferisse per forza al vaticano la cappella sistina ai soldi e per i mobili immobili cioè non è detto che anche la chiesa materiale si salverà io posso affermare tranquillamente che dal punto di vista spirituale benedetto ha già vinto perché ha già separato le linee successorie c'è già una chiesa che è in sede vacante che celebra i riti in sede vacante che non riconosce bergoglio quindi lui dal punto di vista spirituale ha già vinto e la sua profezia sul fatto che la chiesa tornerà piccola catacombale rilevante si è già rilevata ora tutto sta a vedere se questa situazione catacombale si debba cronicizzare e che la struttura sia definitivamente persa oppure se la si vuole riconquistare a norma delle leggi previste dalla chiesa e di quanto previsto dal dal dalla universi dominici gregi cioè il punto è questo premesso che la chiesa spirituale è comunque salva perché bergoglio non è il papa e quindi infera non prevare punto perché perché un tizio qualsiasi che dice che benedice le nozze gay non è il papa il vicario di gesù cristo che attualmente non c'è quindi dal punto di vista spirituale si è già vinto e il problema è siete sicuri di voler lasciare la struttura in mano a poteri anticristici questa è la domanda e vorrei chiedere anche prima che daniele risponda un contributo ad alice diciamo alla fine del discorso io penso che si debba tirare una linea no allora sì io in realtà partirei da alcuni interventi che da qui ho preso spunto insomma dalla conversazione molto equilibrata e piacevole che è stata fatta finora allora primariamente sempre parlando di logos sempre parlando di un mezzo a cui noi umani che che a noi umani è stato dato per poter arrivare sempre relativamente alla nostra condizione a uno scorcio di verità allora mi preoccupa anche da studiosa della lingua italiana il fatto che di fronte a determinate una determinata scelta di strutture grammaticali che non sono controvertibili mi riferisco alla struttura dell'anfibologia mi preoccupa che non sia percepito che questo uso della lingua non è stato scelto a caso ma segue potrebbe essere segno di da parte di colui che lo utilizza di un preciso fine io non mi riferisco voglio chiarire al commento di daniele perché sono certa che che daniele sia ben documentato e abbia tutte le migliori intenzioni nel lasciar calare e sedimentare i ritrovati dell'inchiesta di andrea cionci ecco io parlo proprio di una percezione generale mi è capitato non ultimo in uno degli appuntamenti di conferenza relativa al codice ratzinger di sentire sollevate queste obiezioni e anche nel mio quotidiano mi ritrovo ad avere a che fare con persone che pretendono a sostegno di una posizione o di un'altra posizione delle prove materiali laddove le prove invece relative al ragionare al pensiero puro ecco all'uso corretto dello strumento donatoci della logica non lo ritengono un evidenza altrettanto valida questa io la trovo un segno di profonda crisi dopo di che per quanto riguarda invece la formazione di due gruppi all'interno della chiesa cattolica la formazione di una discessio ecco è chiaro che a livello strategico questo sarebbe una mossa eccellente abbiamo parlato di scacchi ecco scacchisticamente questa sarebbe una mossa eccellente per le finalità di un eventuale pontefice che si fosse reso conto di questa presenza delle forze del male all'interno della chiesa di cristo quindi sì io fossi nella posizione di un pontefice in queste condizioni probabilmente farei lo stesso se mi venisse se mi venisse questa illuminazione ecco io voglio citare anche qua ad esempio un pontefice a cui mi sento molto legata che è giovanni paolo primo il quale con ottima probabilità aveva ravvisato in tempi non sospetti questa presenza probabilmente anche appoggiandosi al lato economico ricordo che eh a don albino luciani era molto caro l'aspetto proprio economico che divideva le classi le persone in gruppi di classi sociali non aventi gli stessi diritti ecco comunque sebbene sotto un profilo economico ehm giovanni paolo primo aveva eh fatto eh determinate aveva preso determinate posizioni si è sacrificato eh comunque sia andata ecco la questione dell'abbandono del suo piano del piano terreno ecco comunque se se non altro da un punto di vista mediatico si è sacrificato però purtroppo dopo i 33 giorni la sua figura è stata assolutamente marginalizzata e quindi è questa una considerazione che va posta secondo me su questo tavolo grazie grazie mille eh Alice una considerazione assolutamente intelligente complimenti e passerei la parola a Daniele per rispondere alla domanda che gli avevo fatto prima sì me la ricordi cortesemente perché mi sono perso un po' nei discorsi no dicevo dicevo fatto salvo il fatto che la questione dell'unacum deve rimanere un argomento insomma un po' da parte lasciato alla libertà delle coscienze comunque io credo che alla fine bisogna capire se nella dispensa qualcuno ha mangiato il formaggio ma è entrato un topo o è successo un fenomeno di autocombustione cioè bisogna capire dire il formaggio di poi sono passati dieci anni daniele insomma no io penso che possa essere anche venuto il momento di tirare una somma quindi va bene il dialogo però attenzione al relativismo alla tentazione relativistica di dire vabbè tu la pensi così io la penso con la e lasciamo tutto in sospeso perché sennò non se ne esce certo no ma guarda che io sono uno di quelli che del relativismo dal relativismo si allontana spesso e volentieri nella mia vita sono sempre stato etichettato come quello estremista ecco estremista in tutti i sensi talebano e cose di questo tipo quindi capisco perfettamente la questione anzi non mi sarei neanche speso in questi tre anni avrei fatto il mio lavoro da musicista semplicemente bevendomi tutto quello che davano però in realtà ho avuto una sorta di moto di responsabilità un senso di una sorta di chiamata possiamo dire così quindi mi sono speso mi sono anche troppo esposto posso dirti la verità rispetto a quello che avrei potuto fare ma l'ho fatto volentieri volentieri per amore alla verità quindi di relativismo ovviamente non non voglio campare anzi il mio non è neanche un nascondermi ma sì lavarmi le mani ma non prendo non prendo posizione io chiaramente eh tengo a cuore eh la chiesa eh amo i sacerdoti prego per loro prego anche per chi sta guidando la chiesa in maniera errata adesso perché ricordiamoci che Gesù ci dice allora scusate ma è successa una cosa divertente in casa di Daniele Logoruso è saltata la corrente lascio a voi immaginare le influenze nefaste che gravano su questa conversazione quindi pregherei Daniele di riprendere dal dall'inizio della sua risposta per riannodare il filo grazie Daniele sì eccomi allora mi sono collegato dallo smartphone così almeno per il momento se non tirano giù il ripetitore io ci sono allora dicevo parlavamo di di relativismo no quindi in realtà come da sempre io ho combattuto relativismo in funzione di questo sono stato anche nel mio passato ghettizzato eh allontanato visto come talebano perché non ho mai avuto le mezze misure nel senso che se la verità è verità se questa cosa è tagliata io l'ho sempre detto eh ovviamente cercando di misurare i modi però ehm e quindi mi sono speso anche in questi ultimi tre anni proprio per cercare dopo questa chiamata eh alle armi di eh dire la verità eh sempre alla luce del del Vangelo perché Gesù diceva io sono la via la verità e la vita quindi sono assolutamente opposto al relativismo e non voglio assolutamente caderci eh la mia ovviamente il mio dialogo il dialogo che stiamo facendo l'apertura che eh che ho dimostrato è eh un modo per eh capirne di più innanzitutto eh valutare perché la mia eh la mia osservazione eh rispetto a questi fatti è comunque presente cioè non non è che mi sto disinteressando eh mi sto occupando ovviamente di fare eh tutto ciò che mi viene chiesto ovvero fare l'apostolato cercare di fare contenuti che possano aiutare le persone ad avvicinarsi a Dio innanzitutto no? E ho trattato diverse tematiche da quella medicale a quella giuridica a quella spirituale e mh e oggi siamo qui appunto a parlare della tua chiesta quindi non non bisogna assolutamente prendere una posizione io sono d'accordo con te eh che bisogna fare chiarezza che i cardinali facciano chiarezza che i vescovi che la chiesa tutta eh ponga delle domande perché si citavano prima i dubbia di quei quattro vescovi è chiaro che se vengono disattese anche delle istanze o dei dubbia o dei delle domande da parte di chi fa parte di questa chiesa allora è preoccupante perché eh la sordità una pseudo sordità intellettuale o comunque eh ma anche fisica probabilmente eh non fa bene non fa bene a nessuno cioè quando si fanno degli appelli tu ne hai fatti altri è chiaro che non tutti hanno voglia di rispondere hanno il tempo però perlomeno una cortesia un messaggio piuttosto che anche un colloquio privato non è che uno necessariamente deve mettersi in pubblico almeno per chiarire la posizione dice guarda non sono d'accordo con te non voglio discorrere ti ringrazio di avermi tirato in causa ma punto fine stessa cosa vale per esempio alle lettere che saranno arrivate anche a Bergoglio rispetto alla sua la sua legittimità o meno o a a quello che insomma alla promozione a queste sue eh anfibologie un po' un po' bergogliane no che dice una cosa però lascia lascia intendere altro eh quindi eh anche lui stesso sta adottando una tecnica di questo tipo eh approva cose che abbiamo già detto non essere conformi alla dottrina al magistero alla morale cattolica eh partiamo ritorniamo all'atto d'amore che presentava piccole eh parti di cellule di feto abortito già solo quello doveva fermare tutto poi non entriamo nel merito ne ho parlato tantissimo nelle mie trasmissioni però eh per esempio passando anche non tanto perché poi la benedizione lui ha fatto in modo che avvenisse da parte delle dei sacerdoti dei vescovi poi il sinodo eh in Germania abbiamo visto cosa sta producendo eh ci sono una serie di cose è come se lui avesse aperto la diga ok questo è davanti agli occhi di tutti 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 i cattolici che capiscono no poi i cattolici nominali ce ne sono tantissimi nel mondo ma eh per loro va bene così perché la chiesa deve ammodernarsi mentre noi siamo quelli di dire no la chiesa deve tornare alle origini altrimenti la chiesa non è più chiesa la chiesa è mondo e non si rispettano più le parole di Gesù Cristo quindi sono eh dell'idea che devi andare avanti che io cercherò nel mio nel mio piccolo di eh approfondire la questione e siamo d'accordo tutti eventualmente almeno chi vuole essere d'accordo che a domanda necessita una risposta mi piuttosto mi fai un documento uno scritto dice basta dovete finirla con questa storia abbiamo tutte le carte e chiudono la questione in realtà sono solo dichiarazioni e vorrei correggerti mi è venuta in mente una cosa che hai detto prima e sul fatto che il Papa è eh assistito dallo Spirito Santo anche fuori ex cattedra cioè scusami ehm quando parla a braccio insomma in realtà Benedetto XVI nel libro intervista con Peter Silval del 2010 luce del mondo dice apertamente che il Papa innanzitutto non è infallibile sempre comunque ma è infallibile solo su alcune determinate materie quindi già lui nel 2010 diceva che il Papa può può emettere delle cose esternamente al suo ruolo di pontefice o comunque eh lo fa a così un po' pur parler come si dice eh però non deve non bisogna dargli credito in quella in quel senso eh quindi direi che eh tutto ciò che lui sta dicendo sì 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 prego proprio pure sì no no quello che dice è molto vero cioè il Papa per dogma è infallibile solo nei pronunciamenti definitivi però l'articolo 892 del Catechismo dice che è assistito in modo speciale dallo Spirito Santo anche nel Magistero Ordinario ora non è infallibile nel nel Magistero Ordinario quindi qualche sbavaturina qualche sciocchezzina qualche cosetta che può non essere condivisa ci sta pure ma non è che può eh può intronizzare idoli pagani benedire il secondo dei quattro peccati che gridano vendetta al Cè per giunta in modo reiterato mi spiego cioè è una questione di proporzioni eh cioè eh al di fuori del Magistero straordinario il Papa può dire qualche stupidagginetta ma involontariamente considerazioni che magari riguardano la politica che riguarda perché non so ma non nel Magistero nella dottrina oh ma questo ha fatto un'enciclica eh ha cambiato il Catechismo a parte Amoris Laetitia no dove si dà la comunione divorziati risposati praticamente ma poi eh in tanti dimenticano che ha cambiato anche l'articolo del Catechismo sul sulla pena di morte e quella cosa lì è passata completamente in cavalleria perché la pena di morte è un tabù ma in realtà i cattolici hanno detto che non è sempre diciamo da escludersi in modo totale e definitivo perché ci sono dei casi in cui la tutela del bene collettivo può prevedere in casi estremi eh che li so carceri insicure in caso di guerra in caso eh in casi molto spinti la pena di morte può essere un modo per tutelare eh la collettività quindi non è assolutamente vero quello che dice Bergoglio che sempre e comunque al cento per cento la pena di morte è da considerarsi sbagliata e questo è un cambiamento della dottrina immortale della Chiesa ehm quindi voglio dire attenzione a giocare con questa cosa della non infallibilità totale nel Magistere Ordinario perché parliamo di minime sbavature non di colpi di zappa alla dottrina anche perché poi Bergoglio che non è stupido chiaramente non è che eh dice vabbè oggi facciamo un nuovo dogma e eh intronizziamo bafometto in San Pietro è chiaro che non si espone in questo modo lui ha una tecnica molto precisa che è quella di lasciar dire far dire ad altri non negare negare a metà far intendere dire a poi dire b poi dire c e poi tornare indietro è chiaro che è una tecnica del genere una tecnica subliminale diabolica completamente diabolica tutte le sue accezioni e quindi attenzione perché diventa una trappola poi questa della non infallibilità che cosa ne pensi no certo allora no io sono d'accordo con te sul fatto che non ci sono state delle piccole sbavature ma delle grandi dighe che si sono rotte gli argini ormai non hanno tenuto quindi è sicuramente è andato tutto a gambe all'aria ehm da quel punto di veramente eh entrare nel merito cercare di capire di approfondire eh di avere una certezza matematica perché eh come dicevo all'inizio la mia posizione ma come la posizione di altri è una posizione di esposizione abbastanza abbastanza elevata mediatica e ad ogni anima corrisponde anche una una risposta se eh ogni persona eh la intende chiaramente non può non può governare non può sapere cosa succede nel cuore delle persone quando dici ciao come va che uno lo può intendere come una bella cosa l'altro lo può intendere come una cosa un insulto perché sua madre diceva ciao come va poi gli dava le mazzate no ecco quindi non possiamo entrare nella vita personale di ciascuno però bisogna chiaramente eh rimanere nei fatti no quindi quando il fatto è compiuto si dice eh condannare il peccato ma non il peccatore questo è la prima è la prima forma di prudenza cioè quindi noi ovviamente dobbiamo denunciare io lo denuncio ormai da tempo eh a Maurice Letizia vabbè chiaramente è una è una delle tante poi c'è Paciamama che è veramente è anche impronunciabile ce ne sarebbero tantissime altre che noi possiamo mettere che non direttamente in Vaticano o eh però c'è stata per esempio è stato messo eh l'idolo del Moloch all'interno del Colosseo davanti al Colosseo poco prima da che scoppiasse la pandemia pandemia e siamo lì eh un idolo pagano sì per dicevano per pubblicità di un parco divertimenti per bambini tra l'altro poi li entriamo in altri in altri ambiti ovviamente non voglio non voglio sforare col tema però visto che si è compiuta Roma questa cosa non è stato detto nulla dal vescovo di Roma no il fatto che ci fosse il Moloch al Colosseo no ad esempio questo è un aspetto importante e quindi sui fatti tutti d'accordo su il i dubbi siamo tutti d'accordo bisogna chiaramente ognuno con la propria sensibilità con la propria col proprio discernimento deve cercare la verità e avvicinarsi ad essa e cercare magari anche se gli è concesso perché magari a te è stato concesso qualcosa che a me e ad altri non è stato concesso cioè mettiamoci nell'ordine che ognuno ha un talento da sviluppare che deve mettere al servizio degli altri ora io come sappiamo no quando parliamo della coscienza privata anche di fronte alla questione dell'unacum vale anche per quanto riguarda la dichiarazione di alcune verità che per altri sono più palesi più lampanti per altri sono ancora più oscure ma sono state celate vengono celate dal Signore apposta perché è giusto che sia così non perché uno è ottuso no perché non c'era o magari non ci arriva lo stesso cioè può darsi che ci sia anche questa questa componente che non teniamo in considerazione però io sono ripeto d'accordo con te che bisogna aprire un'inchiesta che si vada a stimolare tutti quei prelati che magari sono un po dalla nostra parte o che comprendono che c'è un problema dottrinale prima di tutto e poi anche spirituale che possono a loro sollevare la questione cioè noi dal basso abbiamo dei poteri tra virgolette limitati possiamo cercare di aiutare a capire le persone anche noi stessi perché dovremmo fare anche noi discernimento su ogni singola come dico dichiarazione ogni singola un singolo ragionamento perché quello che dico oggi potrebbe non essere vero domani quindi dobbiamo cercare anche noi con molta prudenza di aiutare gli altri innanzitutto a non buttarsi da una parte o dall'altra ma bensì stare fermi cioè lo stare fermi non vuol dire essere inerti lo stare fermi vuol dire stare coi piedi per terra e non farsi smuovere da nulla perché il fatto di quando adesso l'entrata di pilota fammi capire però non smuoversi cioè rimanere ancorati alla realtà o non non prendere posizione vorrei capire meglio esatto non è quello no no la posizione la posizione va presa rispetto rispetto ai fatti innanzitutto poi e da lì non ci deve muovere cioè lì dico quando tu prendi una posizione devi stare lì e non ti devi muovere per quanto riguarda la scelta la decisione di andare da una parte o dall'altra chiaramente va misurata non dico che non bisogna farlo va misurata attentamente ok quindi bisogna veramente se tu sei certo di questa cosa io ti esorto ad andare avanti ti invito andare avanti dopo l'inchiesta e portare avanti questa tua battaglia io ho un'altra un'altra missione questo vuol dire che non che mi discosto dalla tua idea dalla tua visione dalla dall'inchiesta che continuerò ad osservare soprattutto cercherò di dialogare con te apertamente per magari darti uno spunto ricevere spunti però ci sono delle persone che si fanno un po troppo trasportare dalle emozioni ok la cosa che vorrei fare esortare le persone a non farsi emozionare troppo dal momento perché potrebbero rischiare di perdersi non so se mi sono spiegato questo io mi associo faccio facciamo un appello congiunto perché dico sempre che il diavolo è un rospo acquattato nel fango caldo delle emozioni qua se ci si fa trasportare dall'ira dalla tristezza dalla disperazione è finita infatti quello che contesto sempre a questi giornalisti intellettuali legittimisti di bergoglio è che sono preda della paura preda della disperazione preda appunto di emozioni io invece credo di mantenere un approccio assolutamente distaccato dal punto di vista emotivo anche se anche io i miei momenti di nervosismo quando le cose non vengono analizzate seriamente ti devo dire questo un attimo solo Alice poi ti do la parola caro Daniele ti stavo dicendo prima che cadesse un attimo la linea che nella strategia degli scacchi di cui abbiamo parlato prima io sarei il cosiddetto pedone di sfondamento ora però sempre scacchisticamente parlando se questo pedone di sfondamento viene lasciato da solo crolla tutta la strategia e finché cionci rimane l'unico sulla spiaggia di troia come una cassandra scarmigliata a dire guardate che benedetto non ha mai abdicato il codice razzi e tutti lo sbeffeggiano lo prendono in giro eccetera e la questione non si risolve entra il cavallo di troia e i troiani sono spacciati se invece tutti cominciano a dire caspita questa cosa è vera papa benedetto non ha mai abdicato Bergoglio non è il vero papa è chiaro che si vince in due secondi quindi va bene la prudenza va bene tutto però se poi questa prudenza conduce a lasciare cionci da solo c'è il rischio di perdere la guerra questo te lo volevo dire candidamente immagino che tu possa convenirne in termini teorici sì sì assolutamente no no per quello il mio non era dirti guarda vai che io me ne vado in un altro lido no nel senso questa è una prima chiacchierata una prima analisi è un primo confronto che abbiamo avuto io e te pubblicamente quindi sono sono di quelli che ad ogni confronto ad ogni riflessione ad ogni lettura mette un mattone un mattoncino questo mattoncino chiaramente cioè non sono abituato io a farmi diciamo a cambiare idea repentinamente da un giorno con l'altro perlomeno ad aprirmi completamente questo perché ripeto per la mia estrema prudenza ma che mano a mano no vedi io in realtà non avevo mai accennato o parlato del codice Ratzinger nelle mie trasmissioni perché stavo ancora guardando osservando a me piace veramente studiare le situazioni dopodiché ho fatto quest'altro passo no quest'altro passo alice ci ha messo in contatto ci siamo parlati adesso siamo qui a discorrere quindi direi che insomma non avevo la mia intenzione ma possiamo possiamo ritornarci sopra sempre se alice vorrà farci l'onore della sua presenza anzi a proposito chiederei ad alice di lasciare di lasciarci con una conclusione di questo dialogo perché dobbiamo ringraziare lei se è stato possibile e alice che che bilancio tra da questo primo confronto con daniele logoluso allora ringrazio io voi innanzitutto per per essere stati disponibili a questo dialogo che direi che è stato molto proficuo e effettivamente ecco sì un mattoncino è stato posto verso la costruzione di una forma ecco di confronto pacifico e soprattutto distaccato da aspetti emozionali tossici che in altri ambiti possono essersi intromessi ecco io volevo lasciare con una domanda perché mi era sorta alla luce dei vostri ultimi interventi nel nell'ambito cristiano cattolico ma anche nell'ambito di altre tradizioni che che se ne pensi delle altre tradizioni si è rilevato un dato che ritengo magari utile sottoporvi in un breve giro di risposte allora si parla di una per esempio nell'ambito cattolico di una nuova chiesa di una chiesa sotterranea che è fedele al messaggio autentico di gesù cristo dopodiché appunto sta al discernimento di ciascuno di noi stabilire quale sia o quale non sia perché appunto l'analisi del panorama che si prospetta oggi è veramente molteplice e complessa tanto tanto quanto io rilevo questo dato in altre tradizioni di natura esoterica che conosco molto bene anche qui rilevando una parte di intellettuali di studiosi che sono vicini a un pensiero originario nell'ambito di queste tradizioni e un altro gruppo o altri gruppi che se ne discosterebbero in questi ambiti viene detto che i falsi non saranno riconosciuti che ci sarà uno spirito di inganno che confonderà le menti a tal punto da rendere quasi indistinguibile il falso dal vero ecco il discorso è che con la struttura con l'approccio al pensiero che si è diffuso al giorno d'oggi questo discernimento spirituale questa opera di discernimento spirituale finisce proprio per per creare gruppi che sia che si accusano a vicenda e alimentare quello che abbiamo già ehm riscontrato con un'espressione molto felice di Daniele la tifoseria da stadio eh a questo chiaramente mi unisco all'appello dei miei due interlocutori ad avere un atteggiamento equanime quindi non a non provare più emozioni se no non saremmo più umani ma non a diventarne vittima però mi piacerebbe ecco sapere anche il parere vostro eh Andrea Cionci e Daniele Logoluso su eh questa opera di discernimento e eh su queste correnti mh all'interno sia del mondo cattolico ma anche di altri mondi che eh ritenendo di essere detentori della verità o ritenendo di non essere riconosciuti come tali eh possono davvero arrivare finire per mh far andare bene tutto no perché eh nel momento in cui eh io sono detentore della verità ma non sono riconosciuto perché le profezie dicevano così a quel punto si si rischia di avallare tutto no? Certo prego Daniele. Ma allora eh parlerei dal punto di vista della in realtà non parlare di nuova chiesa così come l'hai nominata tu ma parlerei come della chiesa degli albori no? La chiesa delle catacombe perché eh è un po' lo specchio proprio l'effetto specchio possiamo dire così della storia umana ehm per esempio diciamo della storia del cristianesimo ecco eh i cristiani originariamente erano perseguitati erano esclusi dalla società venivano eh uccisi tra l'altro i martiri dei primi tre secoli hanno vissuto delle torture inimmaginabili eh venivano impalati bruciati vivi eh buttati nelle arene eh conservando sempre un grande gaudio e una grande fede quindi ringraziavano il signore ringraziavano i loro persecutori perché li avvicinavano a Cristo gli eh accorciavano il tempo per eh entrare in paradiso quindi anche questa questa componente della gioia della felicità nella sofferenza deve contraddistinguere ognuno di noi e abbiamo visto che poi eh siamo arrivati alle alle epoche un po' più rose per poi ritornare nuovamente nelle catacombe quindi in realtà la chiesa non è mai mutata solo viaggiato nelle ere a seconda delle eh delle situazioni degli usi dei costumi eh delle malattie delle guerre e per poi alla fine ritornare ancora allo stesso punto perché eh diciamo che sono quelle parabole che avvengono nella vita anche di ciascuno un po' come chi nasce no? Pensiamo alla parabola dell'essere umano l'essere umano nasce che è piccolino ed è non è autosufficiente e muore spesso volentieri anziano che non è autosufficiente quindi parte con il girello e lo si ritrova con il girello allo stesso modo quando è anziano eh la vita è questa quindi noi adesso dobbiamo vivere come abbiamo già detto dei una persecuzione che ci sta portando a non appunto a fare una nuova chiesa perché la chiesa non è mai mutata cielo e terra passeranno le mie parole non passeranno la chiesa è non il non prevalebunt è questo e sono d'accordo quando diceva Andrea Cionci che non è che nella chiesa visibile materiale e temporale che si vedrà appunto il non prevalebunt ma ovviamente nella fede dei piccoli degli ultimi che eh conserveranno il seme un po' come diceva eh Don Camillo no? Noi siamo preposti a conservare il seme il seme è quello della della dottrina dell'integrità e quando ci si ritroverà poi a dover riseminare perché eh questa nuova chiesa che è quella che stiamo vedendo quella mondialista quella eh luciferina eh che sarà scomparsa noi dovremmo appunto ripiantare di nuovo eh nuovi germogli per quanto riguarda le altre le altre realtà che tu hai citato eh io mi mi spiace insomma a dirlo ma è eh verità Cristo diceva io sono la via la verità è la vita eh attraverso di me insomma avete la vita eterna quindi andate e battezzate tutti nel nome del padre del figlio dello spirito santo e chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà e non sarà battezzato non sarà salvo queste sono le parole ti rispondo sono queste parole quindi per quanto ci siano le buone intenzioni come nel mondo del dissenso che abbiamo visto in questo periodo alla fine eh chi ha mantenuto la barra dritta sono veramente pochi e anche tra quei pochi insomma si fa eh notevolica e io penso che eh dobbiamo eh e concludo con questo eh fare come Gesù diceva dovete passare dalla porta stretta perché la porta stretta è quella che poi conduce alla vita eterna. Grazie Daniele ehm io stesso parlo sempre di via larga eh della della porta larga quando si pensa al conclave in ciuso quindi la porta stretta è proprio passare attraverso l'analisi la comprensione del disegno di Papa Benedetto eh per salvare la chiesa. In merito alle altre tradizioni non possiamo diciamo evitare di considerare il fatto che ogni cosa ha il suo ciclo quindi eh la ciclicità della vita, delle famiglie, c'è sempre una nascita, una fioritura e poi una decadenza e poi magari una rinascita sotto altra forma eccetera. Allo stesso Papa Benedetto diceva io non appartengo più al vecchio mondo ma il mondo nuovo non è ancora cominciato eh tendeva proprio il preludere a a alla nascita di una nuova di una nuova epoca e quest'epoca nasce nel momento in cui si scoprirà che per dieci anni o più quanto sarà il mondo è stato preso in giro da da uno che non era il Papa e e questa è una figura di garanzia che è sepolta nell'incoscio collettivo quindi quando milioni, miliardi di persone scopriranno che il Papa non era il Papa che quello tanto buono, tanto misericordioso in realtà era un impostore che era legato a interessi tutt'altro che benefici e chiaramente metterà in discussione tutto quanto. Il grande rovesciamento di cui si legge nelle letture scelte dal Papa per il suo funerale Isaia e San Pietro si dice la selva si trasformerà in fruttedo e il fruttedo si trasformerà in selva. Ecco questo rovesciamento a mio avviso deriva proprio dalla scoperta e dalla divulgazione di questo mirabile congegno canonico con cui Papa Benedetto ha fatto piazza purità dei nemici di Cristo. però i tempi sono in mano a noi nel senso che Dio in ottica di fede ha già vinto, questo sistema ha già separato le linee successorie, la Chiesa spirituale è già salva, è già ricominciata la vera Chiesa cattolica in unione con il vero Papa in modo catacombale e clandestino però questa situazione quanto potrà durare? 50, 100, 150 anni, 200 anni? Questo sta a noi perché la possibilità di risolvere in due settimane la questione ci è stata data, poi se invece dovranno passare 100, 250 anni e questo lo si dovrà a quei tradizionalisti che scrivono libri contro il codice Ratzinger e dicono che è solo complottismo, che è solo fantasia e va bene, allora vorrà dire che dovranno passare 100, 250 anni. Quindi a noi la scelta, considerate che però più aspettiamo e più vengono massacrate persone nel corpo e nell'anima, perché questo antipapato non è che è gratis, non è che non ha dei costi. Voi pensate solo alle migliaia di bambini che vengono abortiti anche al nono mese dopo i due ultimi referendum a San Marino e in Irlanda, per contrastare i quali il presunto Papa Francesco non ha detto nulla, si è limitato a piangere sul latte versato. Dice ah sì l'aborto è come affittare un sicario e poi però dà la comunione a Biden e a quell'altra Nancy Pelosi che sono dei super abortisti anche al nono mese. Quindi ogni giorno che viene perso, ogni giorno che ci prendiamo per eh ma sì forse di qua, di là eccetera eccetera, centinaia di bambini vengono fatti a pezzi col forcipe e il sangue di tutti questi innocenti ricade su coloro che stanno lì a eh asseminare dubbi, a remare contro eh a a dire cionciciancia e cose del genere. Comunque eh non so se volete dire, rispondere qualcosa altrimenti eh prego Alice prego prego prego. Sottolineando probabilmente ehm non mi sono espre... non ho fatto passare quello che volevo significare quando ho citato altre eh altre forme di tradizione eh quello che volevo dire è che non solo nel mondo cattolico ma anche proprio come esigenza sociale eh si sta avvertendo il bisogno di un discernimento eh di un discernimento che non può chiaramente essere fatto eh nelle condizioni in cui siamo sia emotivamente parlando sia proprio sul piano ehm dell'uso corretto del pensiero e della logica. Eh in questo senso avevo citato le altre tradizioni ma potrei tranquillamente citare ehm la la cosiddetta scienza moderna ecco eh come un altro esempio dove appunto si sta verificando questa profonda urgenza di eh di porre le basi per eh poter discernere. Per porre le basi su cui poter discernere e non ridurre ciò che è un pensiero ben strutturato ad una mera opinione ecco va fatto un lavoro che per me è sociale eh per proprio porre le fondamenta eh di un ragionamento tra virgolette scientifico scientifico intendo in questo in questo caso eh che esuli eh dal mero ehm esprimere ciò che si sente ma fondare ecco il pensiero su basi solide. Benissimo grazie mille Alice grazie mille a Daniele Logoluso io credo sia stato veramente un esempio di dibattito pacifico e cordiale speriamo che questo possa avvenire anche con altre persone che fino ad oggi sono state sollecitate e che finora non hanno risposto. Eh raccomanderei ai miei ancora pochi iscritti di iscriversi anche al canale di Daniele Logoluso Spirito di Verità TV per essere informati anche su altre questioni che vanno al di là della mera faccenda della Magna Questio. Eh grazie a tutti eh ci vediamo presto io spero di poter replicare questo incontro fra eh uno o due settimane quando Daniele avrà esaminato con più attenzione e più tempo il materiale che gli ho inviato. Grazie a tutti un caro saluto da Andrea Cionci, da Alice Lazzari e da Daniele Logoluso.